benvenuti in questo nuovo video io sono Mary e oggi per la rubrica piante andremo a parlare della peperomia prostrata la peperomia prostrata viene anche chiamata rotundifoglia proprio perché le sue foglie sono rotonde proviene dal sud america ed è un tipo di peperomia strisciante i suoi germogli sono pendenti come potete vedere e la trovo bellissima proprio per questo motivo diciamo che come risultato d'interno il modo più bello per mettere questa pianta all'interno delle nostre abitazioni sicuramente è appenderla o purgiarla in maniera tale che i suoi germogli cadono verso il basso la mia è una pianta ancora molto giovane per cui deve sviluppare tutti tutti i suoi rami le foglie sono piccole carnose quasi a bottoncino con delle venature verdi più scure e bianche e questo le rende marmore riguardo le sue foglie devono essere tolti solo i rami danneggiati o secchi e la potatura deve essere fatta con attenzione se è una pianta abbondante perché se effettuata in maniera scorretta la pianta può non crescere più in maniera sana limitiamoci a togliere il secco e i rami che sembrano più sofferenti ecco diciamo i fiori di questa pianta sono molto piccoli talmente tanto sono quasi insignificanti quando i germogli scendono tutti verso il basso la mia ha fatto qualche fiorellino ma sono così piccoli che in camera purtroppo non si vedono la piperomia prostrata essendo una pianta nativa del sud america ama le nebulizzazioni perché le ricreano un'umidità che nella sua terra d'origine avrebbe sempre quindi sì approvatissime le nebulizzazioni no le annaffiature forti e perché creerebbero marciumi radicali e quindi la pianta ovviamente potrebbe morire a passersi e addirittura sopra la superficie delle foglie creare proprio delle croste quindi mi raccomando poca acqua e nemmeno troppo spesso proprio perché è una succulenta e le piante ce lo fanno capire anche nella loro natura cioè quando troviamo una foglia carnosa inevitabilmente sarà una pianta che tollererà la siccità e odierà i ristagni idrici quindi poca acqua è uno dei segreti per far vivere bene la peperomia prostrata questa pianta non deve essere concimata dall'autunno all'inverno quindi concimi solo nella primavera e nell'estate e se vedete che cadono molte foglie dai rami è perché la temperatura non è adatta quindi è esposta a una temperatura probabilmente troppo bassa o le avete dato troppo fertilizzante quindi lei in quel caso perderà le foglie questa è una pianta che va rinvasata in primavera come quasi tutte le piante e come terriccio ha bisogno di un terriccio classico misto a sabbia torba o perlite torba proprio per favorire il drenaggio la propagazione di questa pianta è tramite talee fogliari e se vi interessa questo argomento scrivetemelo nei commenti e provvederò a fare un video e vi mostro tra i miei esperimenti che cosa ho fatto da un rametto che si è staccato allora rendiamoci conto che non avevo il materiale quindi il mio modo di riciclare qualsiasi cosa è incredibile questo è un tappo e dentro c'è appunto dell'acqua e dei rametti di peperomia prostrata che faccio attenzione a tirare su perché sono più di uno dunque questo qui è il primo che ho messo e sta anche se non si vede facendo delle piccole radici quindi quando saranno un po più sviluppate io lo metterò in terra probabilmente farò un video instagram su questo all'interno qualche altro ramettino piccolo che nei movimenti si è staccato quindi per vedere se riesco a tenerlo e a farlo sopravvivere l'ho messo in acqua vediamo un po vi tengo aggiornati però sopravvive da un po ormai saranno almeno dieci giorni che qui dentro quindi penso che sopravvive la peperomia prostrata può essere tenuta in casa senza problemi perché non è velenosa né per cani né per gatti e nemmeno per noi che possiamo maneggiarla senza guanti perché ovviamente non è ortica orticante la peperomia prostrata è una mini peperomia a tutti gli effetti per cui le sopravvive saranno sempre molto molto piccoli anche quando la pianta crescerà moltissimo è una pianta molto facile da propagare ma non altrettanto da trovare nel senso che quando la trovate io vi consiglio di acquistarla perché non può mancare e soprattutto è una pianta che può essere tenuta in cucina perché sopporta benissimo i vapori quindi una delle collocazioni più belle che potete avere nella vostra cucina è una peperomia prostrata che scende da qualche pensile secondo me se questo video vi è piaciuto io vi invito a mettere un like e scrivermi un commento su questa bellissima pianta vi invito ad iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sui miei video diciamo e cerco di farne uscire una settimana se è possibile e niente ragazzi grazie per per essere stati qui con me e buona vita da me la peperomia prostrata